Allora, questa è una magia colorata. Con questa magia riusciremo a trasformare i colori in un unico colore solo. Ed è anche un gioco, un gioco che vi divertirà da matti se lo fate. Attenti bene, per fare questa magia ci vuole pochissime cose. Noi abbiamo trovato in casa un disco rotondo di plastica e ha un pezzo della confezione dei cd di plastica. Se non avete questo qua lo fate. Prendete un pezzo di plastica un pochino duretta e fate un cerchio. Abbiamo fatto un taglietto al centro e ci abbiamo messo una monettina da 10 centesimi che va a metà di qua e metà di là. Dall'altra parte abbiamo preso un pezzettino di carta, un cartoncino e lo abbiamo colorato col colore dell'arcobaleno. Questa diventa una trottola. Più la trottola gira veloce, meno distinguerò i vari colori ma ne vedrò uno solo. Attenti eh! Pronti! partenza, via! Questo è una parte, vediamo se riesco ad andare più veloce. Pronti, partenza, via! Eccolo lì! Guardate che si vede un solo colore. Adesso gira, gira, gira da matti, gira da matti, gira da matti, adesso io lo fermo perché se no ci mettiamo un quarto d'ora, è vero? lo fermo, piano, piano, guardate adesso eh! Guardate adesso che pian piano si vedono i colori che tornano a distinguersi uno dall'altro. Guardate eh! Adesso pian piano che si ferma, ho ancora tutti i colori dell'arcobaleno. Questa è una magia veramente colorata. Vediamo chi è capace di capire perché succede questa cosa.